Buonasera, siamo all'ultima partita di questa giornata Allora, Levi in presa di Pulizia Antonini Contro trasporto Battimello che ha vinto 6-7-8-1 Presentatevi Un individuo Vabbè, iniziamo al video, non vuole parlare Allora, hanno segnato un gol No, un gol Luca, che lo dedichiamo Alla squadra, perché è stata una bella partita Finalmente abbiamo un'altra finale Grazie anche al nostro capocanonire, penso, Gisonni Perché è un po' di crasse Tanto basso, tanto bravo Poi un gol formisano che non c'è E un gol maggino che non c'è Vuoi venire a parlare? Eh, veniamo! Sto venendo Eh, spiego il Gisonni Senta salvo Alla squadra Spero che me le ha permesso di fare tutti Eh, ma, penso che ho vinto Che vogliamo dire? Come è testo casa? Guarda! Guarda! È stata una bella partita Noi vi salutiamo Allora, ha segnato Luca Battimello Quindi questa torna per me è finito Tanti calcio Questa quanti gol ho fatto però Cioè... Fa bene il Pera ha fatto i gol Come hai fatto i gol? Di strato che vuoi dire? Niente Allora, che andiamo in finale Siamo pericini a questo Tutti in finale Sì, sicuro Avevi dubbi? Avevi Speriamo Non so Quella è la tua squadra Sì Non riuscire a traccio Era la sua preferita Quindi vingono loro secondo te Basta, non venire più Finiamo Iane, è vero, sono bravi Vinceranno come al solito Rimango solo io Quando faccio l'intervista con loro Un bacio alla Mame X Ci vediamo la prossima volta Ciao